Gossip Uedì, Nicolò delude Marta, il gesto clamoroso prima delladdio Uomini e donne gossip EFSS, la scelta di Nicolò che spiazza e delude Marta Grande colpo di scena nel corso della registrazione di Cancelletto Uomini e donne di ieri pomeriggio, durante la quale ci sono stati dei colpi di scena clamorosi riguardanti il percorso di Nicolò Brigante Come ben saprete in questo ultimo periodo il tronista è diviso tra Marta e Virginia, le due corteggiatrici tra le quali si nasconde la futura scelta del tronista Nelle ultime puntate Nicolò non ha nascosto la sua incertezza e il suo essere in crisi in vista della scelta finale da fare a Uomini e donne. Nuova registrazione Uedì, Nicolò spiazza tutti Ebbene nel corso della registrazione di ieri del trono classico cè stato il colpo di scena che ha spiazzato tutti, in particolar modo Marta Nicolò ha fatto una nuova esterna con Virginia, dove abbiamo visto che in un primo momento i due hanno discusso a lungo, complice il fatto che la corteggiatrici riteneva di essere presa in giro dal tronista, in quanto ritiene che sia palese il fatto che voglia scegliere Marta Dopo un tentativo di chiarimento, Nicolò ha spiazzato la bella Virginia mostrando le due biglietti per un viaggio a Parigi Ebbene sì, Nicolò ha intenzione di fare un esterna weekend speciale con Virginia nella città simbolo assoluto dell'amore e ovviamente questa decisione ha lasciato senza parole Marta La corteggiatrice è andata su tutte le furie e in studio si chiedeva quale fosse il motivo della sua presenza, dato che dopo la decisione del viaggio a Parigi con Virginia, sembrerebbe praticamente certa la scelta finale Nicolò ha provato a spiegare a Marta che si tratta di un riconoscimento dovuto nei confronti della sua rivale, dato che anche per lei ha fatto dei gesti molto importanti L'addio di Marta dopo la scelta di Nicolò Ma Marta non ha accettato affatto la versione dei fatti di Nicolò e ha scelto di abbandonare lo studio di uomini e donne, amareggiata e delusa da tutta questa situazione A differenza delle altre volte, però, il tronista non l'ha raggiunta dietro le quinte del programma Cosa succederà a questo punto? Non si esclude che Marta possa aver deciso di abbandonare definitivamente la trasmissione di Canale 5, dato anche il post al vetriolo che ha postato ieri sera su Instagram La ragazza, infatti, ha pubblicato una frase in cui dice che una relazione non può essere a tre persone e quindi in un certo modo ha confermato la sua decisione di dire addio a Nicolò e al programma di Maria De Filippi ad un passo dalla scelta finale Cancelletto uomini e donne Anticipazioni Cancelletto uomini e donne Cancelletto uomini e donne Cancelletto uomini e donne